Il mercato dell'Arezzo dunque si chiude con tante partenze e tre arrivi. L'obiettivo di sfoltire la cosa dunque è stato raggiunto con partenze anche che magari non ci si aspettavano come quella del difensore Nolan, arrivato all'Arezzo con tante speranze e aspettative. Dopo la sua esperienza all'Inter è stato ceduto a titolo temporane, quindi in prestito alla Gianna Erminio. Così come c'è stata la partenza di Rolando, arrivato a gennaio dello scorso anno e che invece va in via definitiva alla Provercelli. Tante operazioni legate in entrata e uscita proprio alla Provercelli, società con la quale evidentemente ci sono dei buoni rapporti. Via anche Mosti che va in prestito alla Pergolettese e poi Raia che va sempre a titolo temporaneo alla Gianna Erminio. La Neve a titolo temporaneo al Tutto Cuoio, Barbini a titolo definitivo alla Provercelli. Poi c'è stata la rescissione del contratto con Cioe che dica fine prestito trasferimento all'Ecco attaccante che non ha mai incantato da queste parti. Burzigotti in via definitiva al Sansepolcro, poi Caselli e Dartini. Il primo va in prestito al Tutto Cuoio e il secondo va in prestito alla Terra Nuova Traiana. I giocatori in questi ultimi due sono sempre stati nell'orbita della Berretti. In entrata arriva l'esterno offensivo Gioe classe 93. La società, Amaranto dice, arriva a titolo definitivo dalla Provercelli. Foglia, quindi un Foglia bis abbiamo. Michele Foglia, centrocampista classe 98 dalla Provercelli a titolo definitivo. E dall'Entella a titolo definitivo l'attaccante classe 98 Pandolfi. Gioe 5 gol in carriera, di Pandolfi e di Foglia vedremo che cosa dirà il campo nei prossimi mesi. Certo i tifosi sono rimasti un po' delusi probabilmente dal mancato arrivo di un difensore perché poi anche con la partenza di Nolan i difensori centrali a disposizione di Donato sembrano un po' pochini al di là di qualche possibile adattamento e tra l'altro non hanno fatto un campionato fin qui di grandi garanzie. Quindi Arezzo che certamente dal punto di vista difensivo è anche più scoperto di prima con la partenza di Roland. Tifosi forse si aspettavano qualcosa di meglio anche di arrivo in mezzo al campo. In attacco la squadra oggettivamente al di là della partenza di Cheddira con giocatori come Gorghe e Cutolo è ben messa e vedremo che contributo potranno dare Gioè e Pandolfi. Intanto si torna in campo contro l'Albinoleffe domani domenica 17.30 con la squadra di Di Donato che dovrà cercare di dare seguito alla vittoria contro la Pergoletese, contro l'Albinoleffe che è un'ottima squadra, un buon collettivo e quindi gara sicuramente da prendere con le dovute precauzioni.